Comigliani, dopo la passata esperienza amministrativa, è pronto a tentare nuovamente il grande salto? Sì, abbiamo Progetto Silvi, è pronto per ritornare in campo e ritornare ad amministrare. Passata l'amarezza per come si era chiusa la passata esperienza amministrativa, torna in campo e cosa chiede ai cittadini Silvi e cosa promette soprattutto? C'è poco da promettere, c'è tanto da fare, ricominceremo dalla sociale, dalla scuola, dallo sport, dalla tutela del territorio, dalla sicurezza, praticamente da dove avevamo lasciato. Solo che siamo un gruppo ancora più forte di quello che eravamo prima. Dopo la nostra caduta non c'è stata nessuna amarezza, ma una presa di coscienza di ciò che era successo, riflettendo prima di tutto su alcuni errori commessi. Da lì siamo ripartiti, Progetto Silvi nasce da questo punto di partenza. Racchiude tre liste civiche, io non rinnego nulla del centro-sinistra, solo d'accordo con il nostro segretario Costantini Fioravante, già dal mese di luglio dello scorso anno abbiamo cominciato a lavorare per un futuro diverso da Silvi, ma non solo per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ma anche per ciò che dovrà succedere prossimamente anche a livello regionale. Noi teniamo al bene di Silvi. Tre liste civiche per tornare ad amministrare la città di Silvi. Partipilo, da dove nasce questa idea? Questa idea nasce dalla volontà, subito dopo quello che è accaduto l'anno scorso, di mettersi in gioco da parte di tante persone. Tante persone che hanno scelto Silvi, hanno scelto di sposare questo progetto civico, che comunque racchiude politicamente un discorso incentrato proprio solo sulla città. Veramente gente che si è voluta mettere in gioco immediatamente per Silvi, e solo ed esclusivamente per Silvi, fuori da ogni schema, fuori da ogni simbolo, fuori da ogni ideologia, ma solo al centro la città di Silvi.